Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, venerdì 11 maggio 2018, tra poco sfoglieremo le pagine dei quotidiani locali, le prime nazionali, chiaramente in evidenza in primo piano le prove d'intesa tra il Movimento 5 Stelle e la Lega per la formazione del nuovo governo e poi anche l'attenzione sui fatti locali attraverso le testate della nostra regione, rivedremo anche alcuni dei servizi realizzati ieri dal Tg6. Iniziamo subito con il centro, le prime pagine delle quattro edizioni locali, dopodiché vedremo anche Messaggero Abruzzo e la città. Qui siamo sul centro di Pescara, l'apertura, abuso edilizio, indagato Pagnanelli, il Presidente del Consiglio Comunale sotto inchiesta per un balcone troppo ampio, sequestrato l'immobile in costruzione in via Fabrizio, il politico o agito secondo le regole. E poi vediamo sotto la testata, nuovo governo di Maio e Salvini, il rebus del Premier, poi ancora verso Cantina Aperte d'Auria vino e turismo, una sfida per l'Abruzzo. La foto notizia, carambola sull'asse attrezzato, salvi due bambini, paura per mamma e figli. A Montesilvano, nuovo distretto sanitario entro l'estate. Poi il sopravvissuto di Rigopiano, il piccolo Samuel, bloccati i soldi raccolti per lui. Per lo sport domani Pescara, Ascoli, striscioni in città, tutti allo stadio per la salvezza. E poi ancora in taglio medio in città, allarme per i pedoni, strisce sbiadite o posizionate in curva, troppi rischi per i cittadini. Poi un paio di richiami con i comici guanciale e per rotta, alla festa per Noemi, la piccola Noemi. E poi ricerca contro il cancro, l'Abruzzo in campo con le azalee dell'AIRC. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna, quei numeri indelebili sui nostri telefonini. Vediamo ora l'edizione aquilana con la nostra regione che ovviamente si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Ed ecco l'apertura, Giro d'Italia. Ecco le strade chiuse. L'Aquila, due giorni dalla tappa con l'arrivo a campo imperatore, decisa la mappa della viabilità. Si sale in quota solo in funivia, biglietti scontati in prevendita, anche le pecore vestite di rosa. E poi la fotonotizia, le spoglie di San Bernardino tornano nel mausoleo, la festa del compatrono. Sempre all'Aquila vediamo alcuni richiami, Maxi Bolletta cancellata dal Tribunale. Poi ancora ad Avezzano, gioco d'azzardo, 120 casi seguiti dai medici ASL. E poi ancora Acqua Maia, sì, alla produzione sul Mona, la regione da il Via Libera a Medibev per l'imbottigliamento. Proseguiamo e siamo sull'edizione terramana del centro. Il titolo d'apertura, derubati da un finto assicuratore a Teramo. Due anziani cadono nello stesso inganno della falsa polizza ideato da un misterioso truffatore. L'uomo chiede il pagamento delle rate per conto dei figli delle vittime e porta via 2.000 euro. E poi ancora al centro la fotonotizia. Uccise e bruciò Sara con danna ridotta a 30 anni. Il caso della ragazza originaria di Arsita, Sara Di Petrantonio, con la foto del suo allora fidanzato e poi assassino. Al Badriatica, vediamo i richiami. Tentato ricatto al commercialista in sei nei guai. E poi ancora il debito di Giulianova. Il comune paga stop al decreto ingiuntivo. In taglio medio, Teramo al voto con 17 liste. Gli ex fedelissimi di Brucchi vanno con la Lega e i DEM si dividono. Infine, l'edizione di Chieti del centro infermiere aggredite in ospedale. Questo è il titolo d'apertura. Violenza al pronto soccorso a Chieti. 51enne pretende di essere visitato e si scaglia contro due sanitarie. Il primario Jacovella. Qui ci vuole più sorveglianza. Nel reparto mancano personale e spazi. La fotonotizia. San Giustino portato in processione tra la gente Chieti, così celebra il santo patrono. E poi alcuni richiami. Il NAS denuncia. Tre farmacisti sono abusivi. E poi in basso, tribunali, giudice e PM arrivati a Vasto e a Lanciano. In taglio medio. Legnaia a fuoco. Pista dolosa. A casa l'incontrata le indagini puntano anche su questioni sentimentali. E siamo ora sul messaggero Abruzzo. Vediamo il titolo d'apertura. Ecco i nuovi potenti d'Abruzzo. L'accordo tra Lega e 5 Stelle. Rivoluzione agli equilibri politici consolidati tra gli estri nascenti. Luigi Deramo che mira al governo. Alberto Bagnai è la pupilla di Casaleggio. Enrica Sabatini. E poi sotto la testata a Pescara. Strade infestate dall'erba alta. Comune in ritardo sugli interventi. A Teramo. Bambini contesi dai pediatri. Oggi l'incontro alla Asle. Per il calcio. Il Pescara contro l'Ascoli. E come una finale salvezza. Code Gravion schierati al centro della difesa. Duelo Pilon Cosmi. In Serie C il Teramo aspetta la sentenza della Corte federale sui play-out. Poi di Spalla. Biscotti, olio e zafferano. Missione Cibus conclusa. Grandi e piccole aziende regionali per giorni in vetrina a Parma. Poi c'è questa fotonotizia molto bella, molto suggestiva. Con il castello di Rocca Calascio illuminato di rosa. Proprio in onore del Giro d'Italia. Arriva il Giro. La regione si tinge di rosa. Feste, tappe, strade tirate a lucido. I preparativi appunto in vista dell'arrivo della carovana rosa. E poi ancora l'Aquila, Anatra Zoppa, una denuncia per il seggio 41. In taglio medio leggiamo Petroglio nel fiume, allarme a tocco dopo il video shock. Un affluente del Pescara ricoperto da uno spesso strato di idrocarburi timori per la fauna ed il mare. Poi ancora a vasto crollo a Palazzo D'Avalos indagato la penna. E infine infermiere picchiate, chieti al policlinico e allarme sicurezza. E quindi la città, il quotidiano della provincia di Teramo, con il titolo d'apertura, Teramo Calcio col fiato sospeso, attesa nel pomeriggio la pronuncia federale sul Sant'Arcangelo che darebbe la salvezza diretta. Sotto la testata, la cronaca, sentenza d'appello per la morte di Sara. Sara di Pietrantonio, del gastro scontato, ha 30 anni di carcere. Roseto degli Abruzzi salta alla festa della birra di fine luglio. Sempre a Roseto, duello in aula sul maxidebito con il CIRSU. Scendiamo, siamo alla fotonotizia. Martedì, grande afflusso e problemi al traffico a Teramo. Dunque scuole chiuse per il Giro d'Italia. E poi ancora leggiamo un richiamo di politica con la foto di Paolo Gatti. Per Gatti c'è solo Morra, fortissimamente Morra, in ottica delle imminenti comunali a Teramo. E poi altri movimenti dissidenti ed ex brucchiani verso la Lega. E ora la situazione ad Alba Adriatica, dove è già saltato, come leggiamo, il patto per il dopo Tonia Piccioni, il sindaco uscente. Sempre ad Alba per la cronaca Clan Roma, a giudizio per il Maxi Ragiro. E poi la banda della Marmotta, interrogati due basisti tortoretani. In basso leggiamo anche Prioritale, rientro degli sfollati. I comuni delle cratere fanno il punto sulla ricostruzione. E quindi a piedi pagina, oggi l'inaugurazione, Teramo Comics, l'università si trasforma nell'universo del fumetto e dei videogames. Questo dunque è uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali. Ora andiamo sulle testate nazionali. Siamo sul Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura intesa su reddito e flat tax. Il programma di Di Maio e Salvini sia un premier terzo, spunta massolo dall'assegno di cittadinanza, pensioni e migranti. Mattarella, sovranismo inattuabile. E poi ancora a proposito di Giro d'Italia, leggiamo questo richiamo sotto la testata. Sull'Etna vince la tattica a Yates, la maglia rosa. E poi a centropagina la fotonotizia, lancio di missili tra Iran e Israele. Mosca, escalation pericolosa, primo ride sul Golan. La reazione dello Stato ebraico fa 23 vittime. Passiamo a Repubblica. Ecco il titolo d'apertura, sempre improntato a questo accordo in divenire tra 5 Stelle e Lega per il nuovo governo. Movimento 5 Stelle e Lega caccia al premier terzo nel patto la stretta sugli immigrati, le condizioni del Colle su Europa ed economia e contro l'intesa cresce il malumore tra i grillini. E poi la fotonotizia vita e morte di ES17, il capo dell'apparanza dei bambini, come leggiamo dalla didascalia, ES17 e Emanuele Sibillo. Bossa, 17 anni, è assassinato a 19 anni. E poi in Basso, in Pakistan, nella prigione con il padre accusato di aver ucciso Sanaa, è stato il disegno di Allah. In piedi pagina il no dei sindacati, il Vashok, si arena alla trattativa, adesso deciderà il futuro esecutivo. E poi polemica a Trento, a sociologia il fantasma del 68, i centri sociali sfidano gli alpini. E siamo alla stampa, con l'apertura avviso del Colle, no a governi contro l'Europa. Mattarella attacca il sovranismo, Macron da Roma segnali d'allarme, Salvini e Di Maio accordo sui temi, ma serve più tempo. E poi la fotonotizia, il Salone con i grandi editori. Torino ha già vinto la sfida dopo aver disertato l'anno scorso Mondadori. Questo è un evento al Salone del Libro. Poi ancora, passiamo al Sole 24 ore, vediamo l'apertura. Ilva salta la trattativa, restano 4.000 esuberi calenda. Fatto il possibile, il dossier passa al nuovo governo. I sindacati bocciano la proposta di accordo dell'esecutivo su un agnuco con Invitalia. E poi di spalla leggiamo Movimento 5 Stelle, Lega, Primo Sì sulla flat tax, tensioni in borsa. Sale lo spread, già oltre 30 miliardi le misure nel contratto, disaccordo sul deficit. Poi in taglio medio, privacy, l'appello delle imprese sulle sanzioni. Serve gradualità, decreto inviato alle Camere. Confindustria, Abia, Agna, Arsonime e Confcommercio scrivono a governo e garante. Passiamo ora al Fatto Quotidiano con questo titolo d'apertura, il decalogo per archiviare il delinquente. Questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Movimento 5 Stelle, 10 impegni. Movimento 5 Stelle, Lega, 10 impegni da mantenere. Senza queste leggi Berlusconi conterà ancora. Qui troviamo questo decalogo che secondo il Fatto Quotidiano dovrà essere rispettato tra i due partiti per agevolare, questo intende il Fatto Quotidiano, Silvio Berlusconi e le sue imprese. Poi ancora di spalla leggiamo l'aeroporto Fiumicino Stop al raddoppio made in Benetton. E poi il Fatto Speciale, Moro per trattare Chiamolo 007 del patto con l'OLP. Proseguiamo e siamo sul manifesto. Vediamo il titolo d'apertura che è una domenica bestiale con le presenze di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini. Tre giorni per trovare un'intesa sul programma del governo, Lega 5 Stelle, ma ce ne vorranno di più per fare una lista di ministri potabile per il Quirinale. Salvini e Di Maio nell'esecutivo cercano un terzo per Palazzo Chigi. Mattarella, detta una linea filo Unione Europea, no a sovranismi ottocenteschi. E poi sotto la testata, notte di battaglia tra Siria e Israele, decine di morti. La guerra di Tel Aviv all'Iran è iniziata. E poi ancora in basso la Casa Internazionale delle Donne. Il Campidoglio respinge le 50.000 firme contro lo sfratto e perquisisce le attiviste. Siamo sul messaggero Abruzzo, vediamo il titolo d'apertura. Prima intesa, manca il Premier, Vertice Salvini e Di Maio, poi avanti sul programma. Fornero, Flat Tax, Reddito e Migranti, due leader saranno Vice Premier. A Palazzo Chigi un nome terzo, ma solo verso la Farnesina. E poi sotto la testata per lo Sport, Veleni di Champions, l'Inter deposita il contratto di De Vrai, anzi a Lazio. Come giocherà la volata? E poi l'intervista al Sindaco di Roma, Virginia Raggi. Roma soffre, ecco il mio patto. I roghi, ho acquistato 609 bussatac per i rifiuti, altri impianti. Poi ancora, al centro pagina la fotonotizia, bruciò Sara, niente ergastolo per Paduano, sentenza d'appello, 30 anni, la madre della ragazza, non è pentito, dica la verità. Proseguiamo con la prima pagina del tempo, ancora la politica in primo piano. Lega 5 Stelle, me lo disse Casaleggio, bisignale nello scoop del 2015, sbeffeggiato allora dai giornaloni sul nuovo governo, dai migranti all'Europa, fatti per piacerci. Così Gianroberto elencò i punti comuni, si tratta sulle poltrone, entro domenica il premier che non c'è. E poi questa fotonotizia mesodata, gioco di parole, Fornero in pensione, senza Fornero, che è appunto uno dei punti in questione, in queste prove d'intesa tra Lega e 5 Stelle. Di spalla, trasporto pubblico nel caos, tre inchieste su Iguaiatac, brucia altro bus. E poi ancora in basso, diede fuoco alla fidanzata, sconto di pena, Vincenzo Paduano uccise Sara Di Penantonio alla Magliana, in appello cade ergastolo, 30 anni. Siamo su Libero, vince il bullismo politico, Di Maio ordina giù le brache e tutti le calano. Il leader dei 5 Stelle comanda in casa d'altri, ha costretto Silvio a ritirarsi, è una tratta dell'esecutivo con la Lega, ma vuol farsi votare l'intesa dai suoi su internet. Come può Salvini fidarsi di lui e pensare di combinarci qualcosa di buono? E poi l'editoriale di Vittorio Feltri, attenti ai 5 Stelle, rischiamo un governo con tante poltrone e nessun programma. E poi la verità, ecco l'apertura, il programma c'è, il governo invece no. Intesa su flat tax, reddito di cittadinanza, immigrazione, legge fornero e conflitto di interessi, Salvini e Di Maio si incartano su chi deve guidare la squadra e rischiano di tornare in alto mare. E poi in taglio medio il PM, noi li accogliamo, loro finanziano i terroristi, arrestati 12 immigrati, mandavano in Siria soldi raccolti tra gli islamici per la Jihad, gli inquirenti, l'Italia e l'Hub europeo dei foreign fighters. Quindi andiamo con l'avvenire, l'apertura, tutto un programma. 5 Stelle e Lega trattano sul contratto e chiedono tempo. Mattarella e Macron, attenti ai sovranismi nella Unione Europea. Di Maio e Salvini parlano di passi avanti e convergenze su fisco, sicurezza e povertà. Resta il nodo del Premier da sciogliere entro domenica. E chiudiamo con il mattino, questo è il titolo d'apertura del quotidiano napoletano. Napoli, scontro sullo stadio De Laurenti, si ritardi un favore al fratello del sindaco De Magistris, replica e da querela. Il patron contesta i lavori in autunno per le universie e ipotizza interessi familiari sui concerti estivi. L'ho fatto ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Di Maro. E poi, per quanto riguarda i temi della politica nazionale, caccia al Premier, Salvini e Di Maio vice, reddito Flat Tax Fornero, le priorità. Prima in testa sul programma, si tratta fino a lunedì. Torniamo alle testate locali, andiamo a sfogliare il centro. Questa è pagina 2, lotta al cancro. L'Abruzzo si immobilita, domenica la vendita delle azalee. Nella nostra regione gli studi sulle cellule dormienti, parla la professoressa Teti. Poi le piazze principali vengono elencate in questo articolo, le piazze dove poter acquistare le azalee, e quindi dare un contributo per l'associazione per la ricerca sul cancro. E poi in basso, festa per Noemi con guanciale e per rotta. La bimba di Guadagrele sta per compiere 6 anni, a pescare allo spettacolo per aiutare la sua onlus. Siamo a pagina 3, bloccati i 138 mila euro donati al piccolo Samuel. Ha perso i genitori morti nell'hotel, è devastato 16 mesi fa dalla valanga, ma il comune di Osimo non ha versato la somma raccolta con la solidarietà. E poi in basso, Will in Abruzzo, arriva a Barbagallo, lunedì e martedì a Rocca San Giovanni, c'è anche il segretario nazionale alla due giorni del sindacato. Invece domani all'Aquila, Medici, la NAO sceglie il successore di Gian Felice. E passiamo a pagina 12, pagina dell'Abruzzo, verso cantine aperte del 26 e 27 maggio, Dauria, Vino e Turismo, un binomio vincente. Il presidente nazionale del Movimento per il Turismo del Vino, l'Abruzzo etnologico, è cresciuto molto, ora dobbiamo farci conoscere nel mondo, ma bisogna fare squadra. Siamo a pagina 13, con il volto santo di Manopello, che appunto è l'argomento in questione. Così, quell'apparizione ci ha salvate. Anna Maria ha rischiato di annegare in un fiume, Ida in un laghetto melmoso, poi l'invocazione ed il miracolo. Il miracolo, eccole qui le due donne salvate dall'apparizione. La sacra icona che il peregrino portò a Manopello, custodito nel santuario dei Cappuccini. Qui vediamo delle immagini d'epoca delle due ultrasettantenni. Avanti ancora, siamo alle pagine di Pescara, con le emergenze della città. Strisce cancellate o in curva, quanti rischi per i pedoni? Dalla Rotonda Paolucci a Portanova, ecco gli attraversamenti più pericolosi. Qui vediamo alcuni degli scatti. In questo caso, vedete, le strisce pedonali nei pressi di una curva, altri tratti con delle strisce che sono cancellate o sbiadite. E poi, sempre sul fronte della viabilità, auto ribaltata, a bordo anche due bimbi. Tutto questo sull'asse attrezzato, proprio nei pressi dello svincolo di Piazza Italia. Proseguiamo, sempre con i problemi della città di Pescara. Erba alta sui marciapiedi. Il Comune corre ai ripari. Il Vice Sindaco Blasioli è impossibile coprire tutta la città in contemporanea. Ieri gli interventi sulla Rivera Sud. Da breve saranno operative due nuove ditte. E poi brucia il polline dei Faggi. Rogo in via De Gasperi. Linea ferroviaria bloccata. Avanti ancora. Abbiamo visto già questa vicenda dare il titolo d'apertura dell'edizione di Pescara. Pagnanelli, indagato per un balcone, sequestrata alla casa del Presidente del Consiglio Comunale in costruzione tra Via Fabrizia e Via Dante. Il PM parla di abuso edilizio. La replica del Presidente del Consiglio Comunale di Pescara. Mi viene contestato il mancato rispetto della distanza di un terrazzo. Sono meravigliato. Ho fatto tutto a regola d'arte e con scrupolo. Avanti ancora. Siamo a pagina 19. Cellule staminali per curare l'ictus. Anche l'ospedale civile sarà coinvolto nel progetto. Domani convegno organizzato da Lombardozzi. E poi ancora, a pagina 20, un siluro alato inaugura le feste del volo su Vienna. Al Media Museum, presentazione degli eventi sull'impresa di D'Annunzio del 1918. Alle 12 l'inaugurazione del monumento dello scultore Vadacca sulla Tiburtina. E poi ancora, pronta la Pineta Nord. Pulizia affidata a cinque stabilimenti. In convenzione con il comune i balneatori cureranno l'area e in cambio potranno sistemare giostre e attrezzi ginnici. Vediamo il servizio. Cambia volto la Riviera Nord di Pescara. Quattro mesi di lavoro, 103 mila euro il costo dell'opera per 280 metri. Di Pineta che ha cambiato davvero il volto in meglio in questa zona di Pescara, proprio alla vigilia della stagione estiva. Naturalmente siamo contenti di questo perché vuol dire che Pescara sorride all'estate che avanza e vuole essere come sempre accogliente, prosperosa e suscitare possibilmente un sorriso da parte della cittadinanza. Una cosa però ci tengo a dirla, naturalmente questa è una cosa bellissima che non ci ricorda come era Pescara perché un tempo la Pineta degradava fino al mare. Dobbiamo volerli bene, dobbiamo volerli bene significa non considerare lo spazio pubblico come una discarica. Quindi qui c'è tanta gente, vogliamo che sia frequentato, vogliamo che sia fattore attrattivo, però chiediamo a tutti rispetto e un aiuto per questo. Perché non è sempre Attiva che deve pulire, Attiva vuole fare il suo lavoro, però c'è anche la necessaria considerazione che quelle pessime abitudini che non si fanno nel giardino di casa, quel tipo di buttare bottiglie e pacchetti di sigarette eccetera eccetera, ecco che non bisogna farlo qui in quest'area. Potrà sembrare una lezione della nonna, invece l'educazione civica è una materia di cui penso ci sia un gran bisogno. E ora nelle pagine di Monte Silvano sul centro, nuovo distretto sanitario pronto entro l'estate. Sopra il luogo con l'assessore Cozzi nell'edificio che ospiterà uffici e ambulatori, i lavori iniziati nel 2009, le ambulanze del 118 andranno in via Inghilterra, tutti i cittadini ora costretti ad andare nei locali patiscenti di Corso Umberto. Presto potranno vedere soddisfatto un proprio diritto con la nuova sede di via di Vittorio. E poi Monte Silvano, siamo alle dinamiche dell'amministrazione, giunta incontro con la Chiavaroli. Maragno, il primo cittadino, non sostituisce la Musa, attende l'approvazione del bilancio consuntivo. E poi sempre a Monte Silvano, a largo con una barca per togliersi la vita, salvato dai carabinieri, un 39enne di Monte Silvano recuperato con un pattino dopo la segnalazione al 112 di un cittadino africano. Avanti ancora siamo a Francavilla, la piscina è da rifare, apertura a settembre dopo il distacco d'energia, scambi d'accusa tra gestori e amministratori, problemi per gli abbonati. Siamo alle pagine di Chieti, con questo fatto di cronaca delle ultime ore, violenza al pronto soccorso aggredisce due infermiere in ospedale. Un 51enne pretende di essere visitato e si scaglia contro il personale, fermato da un altro paziente, ora è ricoverato a Lanciano. C'è la denuncia del primario Antonio Iacovella che dice che qui ci vuole più sorveglianza, il primario chiede maggiore attenzione per il reparto, segnalate carenze di personale e negli spazi. In basso feste di San Giustino, ecco tutti i divieti, oggi la messa in cattedrale e la pizzica salentina in piazza, domani sera arriva Malta Attac. E poi ancora, sempre a Chieti, Blitz dei NAS, denunciati tre farmacisti abusivi nel mirino del nucleo antisofisticazione, attività tra Chieti, Pescara e L'Aquila, trovate irregolarità nelle procedure di distribuzione delle medicine ai clienti. E poi in taglio medio, Ateneore, spinti ricorsi sulla privacy violata, Chieti il giudice dà ragione all'università, l'ex DG che adottò i provvedimenti impugnati dai dipendenti. E poi ancora le pagine di Teramo, ovviamente le comunali in evidenza, come da un po' di tempo a questa parte, verso il voto in comune. Liste falliti, gli ultimi tentativi di formarne altre saranno 17. Gli ex fedelissimi di Brucchi, Ferrante e Narcisi si candidano con la Lega che si rafforza. Verna, del PD, ci ripensa e sarà della partita. Idem, Verticelli e Sciamanna sposano Cavallari. Poi in taglio medio, anziani truffati da un finto assicuratore, due casi in città. L'uomo dice alla vittima di turno di dover riscuotere polizze per conto del figlio. E poi ancora, in sei a processo per il raggiro a un anziano commercialista ad Alba, sono accusati di stalking e tentata estorsione per aver tentato di portargli via quattro case. Anche il professionista a giudizio per minacce alla ex convivente che ha presentato denuncia. Poi ancora, settimana corta, qui siamo a Pineto, settimana corta, i docenti dicono no. La maggioranza dei genitori si era espressa a favore tramite un sondaggio. Ora deciderà il consiglio d'istituto. Andiamo a chiudere con le pagine dell'Aquila. Giro d'Italia, ecco il countdown, meno due, Gran Sasso, ecco i percorsi consigliati. Strada chiusa dalle 16 di domani, si sale soltanto in funivia stabiliti i prezzi, biglietti in prevendita all'Infopoint. Per il deflusso dei partecipanti, corse no stop, non si escludono tempi di attesa lunghi. E poi questa singolare iniziativa, greggie di pecore con 200 mantelline rosa, iniziativa di pecunia e tratturo 3000, stazzo a Santo Stefano di Sessagno, rocca calascio illuminata. Ecco qui questa suggestiva veduta della rocca illuminata di rosa. E andiamo a chiudere con quest'ultima pagina di cronaca altri ricorsi al progetto case. Maxi Bolletta cancellata dal Tribunale, accolta all'istanza di un autente contro Enel Energia che chiedeva quasi 7 mila euro. Il giudice è lente all'onere della prova. Noi ci fermiamo con la rassegna stampa di mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo. Poi è la pubblicità e poi ci ritroviamo con la seconda parte e vedremo anche Messaggero Abruzzo e la città. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo, come vedete alle mie spalle, dal Messaggero Abruzzo. Ecco qui si parla di politica e di volti nuovi della politica. Infatti, scrive il messaggero, il potere che cambia da Deramo alla Sabatini, i volti nuovi della politica. La possibile intesa Lega 5 Stelle, Rivoluzione, Gli Equilibri, le decilino di tanti vecchi nomi. Il deputato Aquilano corre per il governo. La consigliera pescarese vicina a Casaleggio. Tra gli astri nascenti, anche la leader pentastellata Sara Marcozzi e il deputato no euro Alberto Bagnai. Tutti i ritratti in queste foto. I vari D'Eramo, Sabatini, Marcozzi, accanto anche ai leader di partito, i vari Di Maio e Salvini. E poi in basso, i dimenticati vigili del fuoco, è sceso il silenzio sulla stabilizzazione di 500 precari. La denuncia dei discontinui alla vigilia di una nuova estate e del ritorno del rischio incendi. E poi ancora, siamo alle pagine di Pescara. Anche il messaggero tratta la situazione delle strade, la condizione anche del verde. Le aiole infestate, la rivolta del verde, erba alta, un metro sulle rotatorie, polloni fuori controllo, ai piedi degli alberi sui marciapiedi. Lamentele sui social, segnalazioni e ironia dai consiglieri di Incecco e Pignoli. Comune in ritardo su appalti e interventi di stagione. Il vice sindaco Blasioli ribatte lavori programmati e avviati in tutti i quartieri, già prima di Pasqua. Previsti tre passaggi. Poi ancora, dai colli al centro fino alla riviera, il degrado cresce insieme con il disagio dei residenti. La mappa degli sfalci. E poi riviera di vieti stravolti e nessun vigile in strada. Altre denunce sul fronte viabilità. In basso, Matta in scena, gran finale con San Suu Kyi. Alle 18 e alle 21, gli appuntamenti finali. Ospite d'onore il regista e scrittore Marco Martinelli. Poi ancora, sempre a Pescara, regole stravolte, no al supermarket, nel parcheggio. Il centrodestra annuncia compatto il voto contrario al progetto di Via Bologna. Rischio di deregulation. La legge regionale sul commercio prevale su quella delle edilizie. L'interesse pubblico, altro nodo cruciale. Vediamo a tal proposito il servizio del Tg6. Rapposelli, ma secondo voi quale deve essere il futuro dell'area di Via Bologna? L'area di Via Bologna non deve essere sicuramente un'area destinata oggi a un nuovo centro commerciale. Dal momento che non è prevista lì alcun interesse pubblico per quanto riguarda la cittadinanza, l'insediamento di un nuovo centro commerciale. Tra l'altro nella zona ci sono molti esercizi commerciali che potrebbero essere sicuramente penalizzati da questo nuovo insediamento. motivo per cui noi riteniamo che questa delibera non debba essere approvata assolutamente dal Comune e stiamo proponendo una forte opposizione a che questa folle idea dell'amministrazione comunale vada in porto. Noi riteniamo che invece quella debba essere una zona destinata a parcheggio, così come è destinata oggi e come è usufruita anche dai cittadini, sebbene da un privato. Noi riteniamo che la normativa nazionale, il DPR 308 del 2001, consente questa variazione, chiaramente demandando sempre al Consiglio Comunale di valutare l'esistenza o meno di questo interesse pubblico. Noi riteniamo che questo interesse pubblico non ci sia. Basti pensare che quella è una zona fortemente antropizzata, dove oggi l'uso che si fa di quella zona è relativo a parcheggi privati, e diventerebbe un centro commerciale. Quindi questo va da sé, fa capire perfettamente che non solo non c'è un interesse pubblico, ma verrebbe ad essere danneggiato tutti coloro che risiedono in quella zona e anche le attività commerciali. Stiamo per vedere un altro servizio del nostro Tg. Lo spunto ce l'ha da questa pagina del messaggero, restando in provincia di Pescara in questo caso. Idrocarburi nel torrente e allarme. Il fenomeno della rolle nel video shock diffuso dagli ambientalisti a Tocco. strato di petrolio sulla vegetazione, il sindaco Zaccagnini convoca un tavolo, la regione chiede aiuto dell'Arta. Vediamo anche quest'altro servizio. Sversamenti di idrocarburi nel fiume Pescara, il forum H2O lancia l'allarme. De Santis, cosa sta accadendo? È un fenomeno in parte sicuramente naturale, che però comporta lo sversamento di tonnellate e tonnellate di idrocarburi nel fiume. Perché in parte naturale? Perché ci sono delle sorgenti di idrocarburi per la particolare geologia del posto, però poi lì hanno creato nei decenni pozzi che sono oggi abbandonati. Quindi c'è stata un'attività antropica che ha manomesso anche la situazione. Fatto sta che periodicamente, soprattutto quando ci sono piogge intense, ci sono sversamenti veramente enormi di idrocarburi che poi dal torrente a rolle nel comune di Tocco da Casauria vanno a finire poi nel fiume Pescara. L'Arta l'anno scorso ha rilevato in un giorno di febbraio addirittura 7000 microgrammi litri di idrocarburi pesanti nel fiume Pescara. Quindi c'è una contaminazione veramente consistente. E' un fenomeno, purtroppo noi in Abruzzo abbiamo conosciuto le valanghe. Anche la valanghe è un fenomeno naturale, ma va mitigato perché può avere impatti molto consistenti. Basti pensare che l'acqua del fiume Pescara viene usata in agricoltura. Poi ci sono anche delle emissioni in atmosfera. Noi quando siamo stati lì, ce ne siamo poi dovuti andare velocemente, perché ci è venuta la nausea per quanti idrocarburi c'erano anche nell'aria. Quindi c'è una situazione su cui bisogna intervenire rapidamente. Cosa bisogna fare in questo momento? Bisogna fare probabilmente dei vasconi per far decantare il materiale e recuperare gli idrocarburi separandoli dall'acqua. E' un primo intervento da fare, a nostro avviso è anche urgente. Pagine dell'Aquila sul messaggero Abruzzo. Anatra Zoppa, ecco la denuncia. Gravi irregolarità al seggio 41. Comune e candidati a sindaco citati in tribunale il prossimo 18 settembre. Tutto verte sugli errori del verbale riportati 10 voti validi al posto di 411. Il procedimento è distinto rispetto a quello che si definirà il 23 maggio dinanzi al TAR. E poi ancora, anche sul messaggero, chiaramente c'è il countdown verso il passaggio del Giro d'Italia. In Abruzzo arriva il Giro Show a numero chiuso. In fase di definizione, gli ultimi dettagli organizzativi. Si sta pensando di limitare l'accesso a Campo Imperatore. Fervono i preparativi per ospitare il grande Circo Rosa. Ecco tutte le informazioni per godersi al meglio la giornata. Avanti ancora, siamo in Marsica. Spacciavano cocaina nella scuola dismessa, arrestati in quattro. I carabinieri stroncano l'ennesimo traffico nella Piana Fucenze, proprio dopo il blitz anti-Camorra. E allarme, droga pesante. Poi ancora in basso, ad Avezzano, la vicenda è quella legata a Palazzo Torlogna. Ora scoppia la pace tra il Comune e la Regione Abruzzo dopo una serie di incontri. E poi ancora, pagina di Chieti e Provincia. Qui siamo a Chieti, l'emergenza sicurezza al pronto soccorso. Ecco qui SOS Sicurezza, infermiere aggredite e ferite. Un paziente scatena il panico e rompe una costola a una operatrice sanitaria. Il primario non c'è adeguata protezione, finora ha ricevuto risposte insufficienti. Decisivo l'intervento di un albanese, poi arriva la polizia. Il dottor Iacovella parla di carenze strutturali e poco personale. Poi ancora, siamo a Vasto, Palazzo Davalos. Ha indagato la penna nel mirino della procura sul crollo del muro nel gennaio 2015. Oltre all'ex sindaco sotto inchiesta anche tre dirigenti comunari a dare la notizia. Lo stesso amministratore su Facebook non avrebbero adottato misure atte a scongiurare dei pericoli. Pagine di Teramo e provincia, bambini contesi dai pediatri. L'ASL si atterrà alla sentenza. L'assessore alla sanità Paolucci torna sul caso della dottoressa Forestieri. Oggi l'incontro in circovalazione Ragusa con lo specialista mai più presa in giro. L'azienda si trova nella condizione della necessità di rispettare quanto previsto dalle norme. Poi di spalla, leggiamo, passa il Giro d'Italia, martedì scuole chiuse a Teramo. E qui siamo a Giulianova, cardiologia sì al concorso per il primario. Il DG dell'ASL di Teramo, Fagnano, pronti a indirlo. Oggi l'inaugurazione del reparto con il vescovo Leuzzi. Chiusi gli ambulatori per la mancanza degli specialisti. C'è bisogno di tre medici, dice sconsolato il dottor Core. E poi il sindaco critica la decisione dell'azienda di non provvedere alla sostituzione dei cardiologi. Sempre per la cronaca e sempre a Giulianova. Sposo segreto 86enne cade in una buca e cita il comune in giudizio per i danni. La giunta tuttavia non intende pagare. Si è affidata all'avvocato Michele Del Vecchio. Andiamo ora a consultare le pagine della città e il quotidiano della provincia di Teramo. Siamo a pagina 3. Tutto pronto per la grande veglia mariana. Collegamento con cinque stati esteri per l'evento internazionale nel santuario di San Gabriele. Ci sarà anche il messaggio del Papa. Dopo i riti di introduzione arriverà il momento centrale più atteso della veglia. Il video messaggio di Papa Francesco che parlerà ai giovani dei cinque paesi collegati alle ore 17 e 15. E poi ancora il caso del femminicidio della giovane originaria di Arsita. Ergastolo scontato a 30 anni di carcere. Sentenza d'appello. La morte di Sara di Pietrantonio. La 22enne originaria di Arsita strangolata e data alle fiamme. Mi vergogno. Come faccio a chiedere perdono? Se io stesso non mi perdono sono un mostro. Le parole dell'omicida di Vincenzo Paduano. Avanti. Siamo alla politica con l'intervista a Paolo Gatti. Per Gatti c'è solo Morra. Fortissimamente Morra. Il leader di Futuro In sembra non pensare ad altro. È importante per Teramo che sia lui a vincere. Tra le righe parla anche dell'ex sindaco Brucchi, dell'ex fedelissimo Di Stefano e del candidato sindaco di area civica Mauro Di Dalmazio. All'inizio tutti convinti di Morra. Poi qualcuno ha cambiato idea. E qui l'ampia intervista a Paolo Gatti. Poi c'è la lettera in sostegno del candidato sindaco Dalberto. Dalberto è la politica. Il resto è un teatrino. Il musicista Paolo Di Sabatino si schiera a difesa del suo candidato civico Gianguido Dalberto. Frastornato è la sensazione che avverte il candidato di Teramo Vive per le manovre in atto a poche ore dalla consegna delle liste. E poi in basso dissidenti e civici Brucchiani in convergenza sulla Lega con Canzio. sbraccia Ferrante e Narcisi verso la novità. Dopo Tancrediani e Gattiani, Falasca approde invece tra i civici Dalmati. Sul fronte PD, Verna e Speca in lista. Ma quanta fatica. L'ex consigliere ancora una volta in corsa assieme al giovane progressista. e tregua sui petalosi. Avanti ancora il teatro romano. Siamo a pagina 9. Il teatro romano entra nella campagna elettorale. Il comitato referendario invita i candidati sindaci all'Assemblea cittadina di domani all'hotel Abruzzi. Quota mille firme. Già raccolte un quarto circa delle firme necessarie per la presentazione del referendum. E poi su pagina 10 leggiamo Unite. Oggi diventa Teramo Comics. Ultimi preparativi per il grande evento dedicato all'universo del fumetto. Proseguiamo. Andiamo alle notizie della provincia. Accelerare il rientro degli sfollati. La priorità dei sindaci al tavolo sulla ricostruzione. Convocato ieri al BIM. Qui vediamo appunto tra gli altri il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. E l'assessore e neossessore regionale Giorgio D'Ignazio. Con Marcello D'Alberto dell'ufficio sulla ricostruzione. E Gabriele Minosse. Avanti ancora. Clan Rom. Siamo ad Alba Adriatica. Clan Rom ha processo per l'anziano raggirato. Sei persone di Alba sono accusate di stalking e circonvenzione di incapace. A giudizio anche la vittima per le minacce rivolte all'ex compagna che ha denunciato. Poi la banda della Marmotta. I basisti della banda parlano davanti al GIP. Ieri mattina gli interrogatori in carcere di Pietro e Michele Intenza, padre e figlio di Tortoreto. Una carcassa di Bancomat è stata rinvenuta dai carabinieri nei pressi dell'abitazione dell'Intenza. Fra la vegetazione in una vicinissima cascina. Proseguiamo. Siamo a Giulianova. Ha chiesto il processo per la coltellata a scuola. Chiuse le indagini sul 18enne che nel febbraio scorso ha trafitto un compagno di scuola all'Ipsia di Giulianova. E poi a Roseto. Saltato il festival delle birre di fine luglio. Il comune lascia in ammollo i promotori e associazioni organizzatrici per oltre due mesi. E poi la rinuncia. Sempre a Roseto. Duello in consiglio sul maxidebito col Cirso. L'opposizione attacca l'amministrazione PD. Gli attori della scelta sono coloro che comandano oggi. Non ho gestito io quella faccenda. Era di buonaventura gestire direttamente i rapporti col Cirso. Dice il sindaco di Girolamo. E poi il timore dell'ex sindaco Pavone che ora i cittadini rosetani possono essere salassati con nuovi tributi. Andiamo sulla pagina dello sport della città. Ecco qui pagina 21. Sant'Arcangelo. Oggi si decide il teramo. Spera. Nel pomeriggio potrebbe esserci la pronuncia della Corte federale d'appello sul caso dei romagnoli. Dalla sentenza di secondo grado si capirà se il diavolo dovrà spareggiare con il Vicenza oppure se sarà matematicamente salvo. Le parole del difensore Caidi che vediamo qui nella foto, perdone, questo qui con la maglia rossa. La gente quest'anno ha capito le nostre difficoltà. E poi in basso, basket in carrozzina. Amicacci Giulianova. Domani parte la serie di finale per lo Scudetto. La formazione giuliese non avrà il fattore campo contro Cantu, ma sogna il primo successo in campionato. Un rapido sguardo ai quotidiani nazionali. Le prime pagine. Qui siamo sulla gazzetta dello sport. Allegri, il segreto Juve, leader massimo. Cambiare per vincere. In quattro stagioni ha mutato sistemi di gioco, uomini, ruoli, idee. Ha messo le stelle in panchina, scatenando reazioni positive. Poi di spalla salvate il soldato Gigio con un'immagine di Gianluigi Donnarumma, il portiere del Milan. Protagonista in negativo nel finale di Coppa Italia. E poi sempre di spalla il caso De Vrai. Affirmato per l'Inter ci sarà con la Lazio nell'eurosfida finale. Poi altri richiami con le parole di De Laurentiis. Caro Sarri non si vince solo con i top. Poi un'intervista esclusiva a Lewis Hamilton. Senna il modello. Fettel non è il rivale più duro affrontato. Poi per il Giro d'Italia. Chavez e Yeats, coppia vulcanica. Froome e Aru si salvano. Vediamo il Corriere dello Sport. che anche il Corriere dedica l'apertura all'allenatore della Juventus definendolo mister Europa. Domenica Allegri può centrare un'impresa mai riuscita a nessuno nei grandi campionati. Scudetto e Coppa per quattro anni di fila alla guida della Juve. E poi sotto la testata le parole pronunciate ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Napoli vuole tenere Sarri. Ora scelga non l'obbligo. Ora scelga non l'obbligo. Il titolo ce lo hanno tolto. Poi ancora su tutto sport. Juve-Napoli al VAR dello Sport non finisce più. In base alle parole pronunciate ieri dal presidente De Laurentiis. e poi sotto la testata Remida Percassi in riferimento al buon operare del presidente dell'Atalanta. Torniamo ai quotidiani locali. Andiamo sul centro. Ecco qui subito il giro d'Italia. perché ieri c'è stata una bella azione anche dell'abruzzese Ciccone che viene appunto citata nel titolo di apertura della pagina. L'Etna incorona Yates, Chavez vola, Ciccone brilla. Simon Yates è la nuova maglia rosa. Ieri la vittoria del colombiano Esteban Chavez. Doppietta dunque della Michelson-Scott. Il britannico si prende la maglia rosa. Il colombiano vince l'ultima tappa siciliana. Il teatino della Bardiani in evidenza con uno scatto a pochi chilometri dall'arrivo. E poi per il calcio. Pettinari e Monachello a caccia di gol salvezza. Sfida a distanza tra l'attaccante del Delfino e la punta bianconera. Il bomber biancazzoro vuole chiudere in bellezza. L'ex lancianese pescarese mancato ha già segnato all'Adriatico. Indossava la maglia del Lanciano. E poi spuntano striscioni in città. Tutti allo stadio. Superata quota 8.000 spettatori. Restano 100 biglietti per gli Ascolani. E poi parla l'Ascolano, ma giocatore di proprietà del Pescara, Frank Canutè, all'Adriatico per vincere. Vogliamo sei punti nelle ultime due gare. Dice il giocatore che è stato prestato all'Ascoli nel mercato di gennaio. Serie C con le parole del presidente del Teramo Campitelli. Punite il Sant'Arcangelo o andremo al Coni. Oggi il verdetto sui romagnoli che rischiano il meno due. Il patron Campitelli pronti a ricorrere al collegio di garanzia. In caso di penalità in classifica i biancorossi non disputeranno i play-out contro il Vicenza. E poi ancora per la serie di Francavilla. Niente sorprese, Candeloro resta al timone. Il patron giallorosso ha confermato il suo impegno anche il prossimo anno, ma potrebbe riallacciare i contatti con la vastese. Domenica scattano i play-off. Ha ribadito il suo impegno nel Francavilla Calcio Candeloro nel corso della cena di fine stagione. Passiamo ora al messaggero Abruzzo. Vediamo anche in questo caso le pagine dello sport. Ecco qui Pescara e Ascoli come una finale. Pillon e Cosmi a panchine invertite hanno bisogno di punti per la conferma. Code Gravion al centro della difesa. Brugman tappe forzate per poterlo schierare. Ieri il giocatore uruguaiano sempre alle prese con fastidi muscolari e anche in questa settimana con una sindrome influenzale. Ieri si è regolarmente allenato, quindi dovrebbe essere regolarmente della partita e Coda dovrebbe essere l'unica novità, peraltro forzata, vista la squalifica di Perrotta. Il calcio pescarese ha un futuro con i ragazzi della Curi, la società presieduta da Antonio Martorella, qui in una foto con l'avvocato Croce e con il sindaco di Pescara Alessandrini. Per il basket Roseto, occhio a Thomas e Turner, sono i due rinforzi americani presi da Napoli per tentare la missione salvezza, ma per il resto squadra battibile. E poi ancora la Serie C, Teramo, fiato sospeso per il Sant'Arcangelo, oggi il verdetto della Corte federale sulla penalizzazione. Il club romagnolo è difeso da Chiacchio, ex legale bianco-rosso, ai tempi della vicenda di Savona-Teramo. Anche i Veneti cambiano panchina, con il ritorno di Zanini al posto di Lerda, tutto questo appunto sulla panchina del Vicenza. Nebil Caidi, sì, oppianto dopo il pareggio con la Reggiana. E poi ancora per il ciclismo, giro in Abruzzo, oltre a Pantani il ricordo di Gino Bartali, il Parco dei Giusti a Torre dei Passeri sarà meta di un passaggio. Poi in vista della semifinale play-off tra Avezzano e Pineto, le parole del bomber avezzanese Dos Santos. Avezzano, il merito è del collettivo, sono capocannoniere, ma questa squadra ha valori eccellenti. Sul fronte Pineto invece, il Pineto non presenterà domanda di ripescaggio, cosa che invece è nelle intenzioni del patron marsicano Gianni Paris. E invece la terza abruzzese impegnata nei play-off è l'Aquila, che sarà di scena ammaterica, ma sul fronte societario sempre peggio. L'Aquila infatti potrebbe non iscriversi e finire così. Quello che finisce senza dubbio è l'appuntamento odierno con Mattino 6. La nostra rassegna stampa tornerà domani alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie in regia a Silvia Gentile e grazie a voi per la cortese. Attenzione, buona giornata. Grazie a Silvia Gentile e grazie a voi per la cortese. Grazie a Silvia Gentile e grazie a voi per la cortese.